...dischi o altri aggeggi del genere per poter conservare i nostri documenti attraverso Google Drive noi abbiamo un disco virtuale quindi un disco che si appoggia ai suoi server di Google dove vengono automaticamente salvati tutti i documenti creati con i vari programmi della suite di Google quindi con Google Documenti, Presentazioni, Fogli, Moduli, Classroom tutto finisce in Drive, in questo disco virtuale e in questi documenti possono essere accessibili e quindi anche tutti i programmi via internet da un qualsiasi device quindi da un qualsiasi tablet, computer, cellulari basta avere il nostro account di Google che può essere l'account privato o quello di scuola, di G Suite con l'account privato abbiamo a disposizione 15 GB di spazio con l'account di G Suite, quello scolastico, addirittura lo spazio è illimitato quindi vediamo come funziona brevemente Google Drive in realtà l'utilizzo è molto semplice per accedere al nostro account privato già sappiamo, basta cliccare sulla voce qui in alto accedi se quando compare, in questo caso sono già entrato oppure per accedere a Drive dal mio account di scuola posso andare come facilitazione dal mio account scolastico cliccare qui su G Suite in modo che ho a disposizione tutti i programmi scrivo il mio account di scuola soltanto l'iniziale perché l'estensione è già scritta scrivo la mia password per entrare dentro Drive basta cliccare sempre su questo quadratino formato da 9 puntini e qui ho l'icona Drive, questo triangolino colorato ecco, questo è quello che compare quando entro in Drive in pratica vengono fuori tutti i documenti che ho creato ripeto, con i vari programmi questi documenti, in alto con i più recenti sotto ho tutti gli altri vedete, secondo l'icona questo è un documento di Google Documenti questo è presentazioni e così via quindi per entrare nel documento già creato basta cliccare col tasto di destra del mouse e faccio Apri con, in questo caso, Documenti Google in modo che posso già entrare in variazione del documento in più posso anche organizzare i miei documenti in cartelle basta cliccare in un punto vuoto, tasto destro clicco su Nuova cartella do il nome alla mia cartella clicco su Crea in questo modo ho creato la mia cartella vedete, Documenti Geografia e qui, cliccandoci dentro, posso andare a spostare o a creare all'interno di essa i documenti vedete, in questo caso sono dentro la cartella Documenti Geografia posso creare un documento un file di documenti o di presentazioni anche direttamente dal Drive basta cliccare col tasto destro e faccio basta fare Documenti Google per creare un documento Google oppure un file di presentazioni oppure un altro dei programmi di Google Suite in più, ecco, anche una cosa molto molto interessante oltre ad utilizzare i documenti di Google qui posso anche andare a caricare tutti i miei documenti personali in modo che è da avere in questo disco virtuale i miei documenti disponibili da qualsiasi computer da qualsiasi device come faccio? basta cliccare in un punto vuoto come in questo caso, ho preso il mouse tasto destro vado a fare Carica File e cliccando su Carica File posso andare a selezionare sul mio computer locale un qualsiasi documento presente e poterlo quindi caricare sul mio computer in più in questo caso ho inserito un file txt normale oppure posso addirittura caricare delle intere cartelle dal mio computer personale su Drive in un punto vuoto clicco col tasto destro faccio Carica Cartella e in questo caso posso andare a selezionare un'intera cartella da mettere su Drive e quindi cliccando sul tasto Carica e in più posso ancora condividere i miei documenti anche con altri utenti il discorso della condivisione lo accenniamo oggi anche se poi faremo un tutorial apposito proprio per le condivisioni in generale quindi se io ho un documento per esempio questo cos'è la scienza e voglio condividerlo con altri utenti basta cliccare col tasto destro sul documento tasto destro del mouse e vado a cliccare sulla voce condividi cliccando su condividi qui mi chiede clicchiamo su ok mi chiede su quali documenti voglio condividere cioè non quali documenti con quali utenti voglio condividere con i documenti in questo caso scrivo l'indirizzo completo in questo caso mi raccomando che sia completo anche per quanto riguarda gli utenti interni di inviani salvemini clicco l'indirizzo completo e in questo caso ho condiviso il mio documento con alunno 1 posso anche condividerlo con alunno 2 e così via ecco l'importante è che l'indirizzo sia completo posso anche andare a selezionare la modalità che ho condivisione cliccando su questo trattino su questo triangolino mi dice se le persone che aprono il documento lo devono soltanto visualizzare ma non modificarlo lo possono commentare quindi aggiungere anche dei commenti oppure addirittura essere degli editor editor vuol dire che possono andare a modificare il mio documento anche in più di uno quindi questo è un discorso che può essere molto utile per esempio clicchiamo su invia può essere molto utile in discorso di di creazione di documenti di un lavoro di gruppo adesso se io qui apro il documento basta fare due volte clic quello che ho condiviso vediamo dall'altra parte che succede se vi faccio vedere che succede se gli altri utenti cominciano a fare della variazione sul documento sul quale anch'io sto lavorando adesso io adesso apro un'altra scheda qui sto in un altro alunno ecco intanto approfittiamo per vedere che in questo caso mi trovo nell'alunna 2 nell'account di l'alunna 2 questi sono i suoi documenti personali che vediamo in alto qui a sinistra oltre al mio drag abbiamo anche i documenti condivisi con me se clicco condivisi con me mostra i documenti che altri utenti hanno condiviso con me quindi in questo caso vediamo dovrebbe comparire il documento questa è la scienza ecco qui è comparso a volte bisogna fare perché poi chi stava in più utenti dove bisognava fare un aggiornamento della della pagina ecco qui che è comparso mi trovo nell'account alunna 2 quindi se io clicco qui posso aprire il documento e posso andare a fare delle integrazioni la società mi segnala come dall'altra parte ci sia un utente vedete questa lineetta viola che sarebbe l'insegnante in questo caso che sta facendo anche le variazioni se qui vado qui per esempio clicco qui e aggiungo delle altre ho aggiunto un'altra frase andiamo a vedere che succede sull'utente insegnante ecco mi segnala che se mi fermo qui un attimo mi segnala che la luna 2 ha aggiunto la frase in questo caso e cade a terra come vedete questo può essere utile proprio per un discorso di creare documenti in condivisione io come insegnante ho aggiunto un'altra frase vediamo che succede nel documento dell'alunna ecco mi dice che proprio anche io da quell'altra parte sto lavorando quindi è molto molto interessante per un discorso di didattica collaborativa è un discorso di lavori di gruppo quindi posso creare dei documenti e renderli condivisi a 2 3 alunni che possono lavorare contemporaneamente sul documento non solo qui in alto vedete mi segnala anche chi sono gli altri utenti che stanno condividendo i documenti in questo momento è collegato soltanto l'utente insegnante quindi oltre discorso quindi del mio drive il documento di la parte dei documenti che è condivisa con me da parte di altre persone poi abbiamo anche il cestino che come gli altri cestini che conosciamo già sui computer permettono proprio di poter recuperare eventualmente dei documenti verneamente cancellati per cancellare un documento tasto destro del mouse sul documento vado a fare qui il tasto rimuovo ecco dimenticavo un'ultima cosa i documenti che ho su drive posso anche scaricarli sul mio computer in locale come faccio tasto destro del mouse sul documento da scaricare vado qui sul tasto scarica e in questo modo ha scaricato vedete qui sotto il documento sul mio computer in locale in questo caso è una presentazione di Google presentazioni scarica e qui automaticamente vedete che da Google presentazioni mi scarica sul computer in locale ma non solo me lo converte anche automaticamente in un file di Microsoft PowerPoint quindi le conversioni funzionano in senso bidirezionale sia dai programmi Google verso i programmi esterni sia dai programmi esterni verso i programmi Google ecco queste cose più importanti del programma Google Drive e quindi Grazie.